si chiama sia la sigla dice poco e sta per sostegno per l'inclusione attiva una misura di contrasto alla povertà perché attiva in pratica sarebbe noi ti diamo una mano ma tu ti impegni a superare il tuo momento di difficoltà come attraverso corsi di formazione professionale frequenza scolastica dei figli e ricerca di una nuova occupazione l'assegno mensile va da 80 euro per un singolo componente della famiglia fino a un massimo di 400 euro per più di quattro componenti per 12 mesi depositati in una card erogata da poste italiane attraverso l'inps e riguarderà famiglie che hanno un isee pari o inferiore a 3.000 euro questo progetto a livello nazionale varato per il contrasto alla povertà che recepisce una direttiva europea e relativi fondi sarà attivo anche nel comune di fano e per l'ambito sociale 6 tutto bello ma attenzione i tempi sono un po' stretti perché la data che bisogna tenere presente è il 2 di settembre giorno in cui si potrà presentare la domanda e giorno in cui l'isee deve essere a posto in quanto vale il principio della copertura fino alla cifra disponibile a livello di ambito quindi prima si arriva e meglio è anche se a livello regionale si parla di oltre 15 milioni di euro ripartiti naturalmente nei 23 ambiti e in ordine di grandezza quello di fano è il terzo dopo ancona e pesaro questo progetto che viene messo in campo dagli ambiti territoriali e dai comuni di tutto il territorio nazionale e quindi ovviamente la regione marche vede il comune di fano e l'ambito territoriale 6 quei suoi comuni in partenza per l'erogazione del bando quindi le famiglie sono dal 2 settembre invitate a presentare un modello ISEE e a verificare i requisiti necessari per poter partecipare ovviamente la cosa importante appunto è che non c'è un fondo passivo che verrà erogato quindi un contributo ma un fondo che verrà erogato in base al numero dei componenti della famiglia e ai requisiti ma collegato ad un progetto quindi un progetto a un patto sociale che verrà fatto tra il comune e l'utente beneficiario e che prevederà appunto dei livelli diversi di attivazione dell'utente ma anche in molti casi per vedere di riaprire un percorso di tipo occupazionale che eventualmente si è perso in questi anni.